Ritorna il senso unico in via Ripa ad Eboli. Porlo l'amministrazione comunale. Sulla scia della delibera digiunta approvata nei giorni scorsi è finalizzata a rivedere la viabilità su alcune arterie comunali. Esulta il cavo gruppo di Forza Italia Damiano Cardiello. Cariello chieda scusa a commercianti e residenti, afferma. Il ritorno del senso unico in via Ripa è un atto dovuto nei confronti di cittadini e commercianti, come da noi richiesto a più riprese. Per i primi i disagi vissuti in questi due anni e mezzo sono stati forti e all'ordine del giorno, tra la carenza di posti auto e l'impossibilità di accedere agli uffici postali se non a piedi. Per i secondi invece si sono registrate perdite ingenti anche del 40% sul fatturato annuo e qualche esercizio commerciale ha chiuso bottega. Adesso attendiamo la convocazione del Consiglio Comunale che dovrà revocare l'atto precedentemente adottato e ridefinire il piano traffico lungo l'arteria di via Ripa. Grazie.